C'era anche l'enciclomeria Treccani, prende un volume qualunque della Treccani, lo apra a qualunque pagina, io l'apri, lui era a distanza di 5-6 metri e lui lesse quello che io avevo sotto gli occhi, la voce che io avevo sotto gli occhi. Un'altra volta, un'altra volta, lui mi invitò a cena, io abitavo, i miei genitori abitavano a Torino, io ero a casa dei miei genitori e mia madre, dopo lui abitava vicino alla stazione, mia madre mi diede una lettera, già che passi dalla stazione imbuca questa lettera e io ho miso in tasca questa lettera, andai da lui, c'erano sempre poche persone, 4-5 persone, misi questa lettera in tasca e sporgeva la parte terminale di questa lettera e lui mi disse tu hai una lettera in tasca di tua madre, indirizzata, adesso non mi ricordo a chi, io tirerei fuori questa lettera, non sapevo che fosse indirizzata, evidentemente ero indirizzata la persona che lui mi aveva detto, dice apri questa lettera, apri questa lettera e vedrai che alla pagina 2 accanto alla frase che citò, io non ricordo quale, c'è un ripensamento di tua madre, una virgola, io aprì questa lettera, la frase era quella e c'era la virgola. Un'altra volta mi disse, io gli telefonai, quando andavo torino, lo facevo sempre, e gli disse vieni stasera, vieni stasera, ti aspetto a cena e portami un mazzo di carte, un mazzo di carte nuovo, in tonso, e gli dice lo trovi in una tabaccheria, ce ne sono tante, lì alla stazione, io vado a comprare questo mazzo di carte, lo porto da lui, ci sediamo a tavola, poi finita la cena, quando cominciamo i suoi esperimenti, gli dice tira fuori questo mazzo di carte, io tiro fuori questo mazzo di carte, che era ancora, ripeto, nel cielo fan, e lui mi disse, sono tutti assi di cuore, erano tutti assi di cuore, ora io non so che dire, io parlo della mia esperienza personale, un'altra volta, un'altra volta andai a cena, la cena fu organizzata da Romiti, che era allora amministratore delegato della Fiat, ed eravamo in collina, ricorda una cena, c'erano gli anfitrioni, marito e mia moglie, mia moglie, Vittoria ed io, e Roll, non so se c'era anche un'altra persona, eravamo in 5 o 6, non mi ricordo, e a un certo punto disse a mia moglie, dice Vittoria, anzi, dia da mia moglie un tovagliolo piegato, e a un certo punto disse, tienilo sulle ginocchia, mia moglie prese il tovagliolo, lo mise sulle ginocchia, lui con un carboncino, un mozzicone di carboncino, scrisse qualcosa nell'aria, che io non riuscirei a decrittare, lo scrisse molto rapidamente, poi rivolgendosi a mia moglie, le dice, apri il tovagliolo, spalanca, distendi, ti spiega il tovagliolo, e sul tovagliolo c'era scritta la data di nascita di mia moglie, mia moglie è nata il 10 ottobre del 1945, lo dico perché lei lo dice lei stessa, quindi non pecco di rire, non è un difetto di galanteria, un rispetto, voglio fare a mia moglie, però è stata rivelata, quindi sul passaporto, sulla carta di identità, sulla paglia, sui documenti, alla data 20 ottobre, 20 ottobre, e quindi lui non poteva, come poteva sapere che mia moglie era nata il 10 ottobre del 1945, quando su tutti i documenti, non lo so, io non sono in grado di giudicare, secondo me lui era dotato di straordinari poteri paranormali.